Ciao e benvenuti su MyFootballJersey. Oggi vedremo la maglia di casa della Lazio per la stagione 2022-23 nella versione FAN, quella dedicata ai tifosi. Dopo la fine della partnership con Macron, le divise da gioco del club bianco-celeste sono state realizzate da Mizuno, società con la quale il club di Lotito ha siglato un accorto per la durata di 5 anni. La prima maglia richiede a livello cromatico quella della passata stagione. Tra i dettagli più particolari troviamo il colletto e il giro manica con un'alternanza di bianco-celeste e poi nuovamente bianco. La divisa home classica sky blue è caratterizzata dall'iconica aquila olimpia stampata in rilievo diagonale lungo tutta la parte anteriore della maglia. Le cuciture verticali bianche sono state sostituite da tante piccole apile che si ripetono lungo tutta la maglia. Dietro al colletto è presente la scritta SS Lazio. Secondo me questa maglia è molto bella, nella mia personalissima classifica questa prende 4 stelle. È una maglia tintunita ma però mi piace veramente il tono di azzurro che viene usato e mi piace questo bordino che sta nel giro manica e nel giro collo. Vi ricordo che qua vedete il prezzo che peraltro comprende le spese di spedizione quindi voglio dire molto conveniente e vi ricordo che sul sito, scusate che è qui in descrizione qua in basso, trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia che peraltro è fatta benissimo e soprattutto trovate un link da 5 dollari da poter utilizzare liberamente sul sito per comprare quello che volete. La spedizione peraltro è stata anche molto veloce, è arrivata in 20 giorni. Ora vi lascio la parte in cui vedrete la vestibilità e le misure quindi continuate a guardare il video. Prima di farlo però se il video vi è piaciuto regalateci un like e iscrivetevi al canale per essere aggiornati su altre recensioni. Per oggi è tutto ci vediamo alla prossima. Io sono alto 1 metro e 75 e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia media della versione Fan. Grazie a tutti.